Applauso. Siete mosci però, un po' di più. Dai, fatemi sentire l'applauso, su! Bravo, continua. Grande, grande, grande. Fantastica cittadina, capena, la città d'arte, d'arte, d'arte. Bellissimo, bellissimo centro storico. Allora, signori, cosa faccio qui? Cosa faccio qui? Sì, chi lo sa? Con me ho portato una valigia, ma non perché io stia partendo, ma perché all'interno di quella valigia, questa qui, sì, c'è un mio carissimo amico. Io non sono tuo amico. Scusate. Johnny. Guarda che siamo già arrivati, eh. Dove? Lo sapevi dove dovevamo venire, eh? Non mi fa fare brutte figure. No, no. Allora, ci sono delle ragazze? Scusate. Johnny. Siamo già arrivati. Da che ti presento. Ok. Allora, signori, qui, direttamente alla piazza di Gavena, questa fantastica piazza, vi presento un amico... Sì, un po' bizzarro. Sarai tu, bizzarro? Johnny, chiudi? Johnny? 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 Chiudi? Chiudi? Dai, su, esci. Chiudi? Oh, ma sei pronto? No, sono ingagno. Non mi fa fare brutte figure, eh. Su, dai che... Qui il pubblico ti vuole vedere. Sì, sì. Fatta? Sì, no, fatta tutta. Johnny, su. Dai, adesso basta, eh. Su, vieni fuori. Chiudi! Ti giuro che non guardo. Ok. Ecco, bravo. Su, dai. Dai, sbrigati. Tira la corda. Quale corda? Quella lì. Su, dai. Lo voglio, ricordino? Ma che ricordino? Dai, sbrigati. Due ricordini? Ma che due ricordini? Dai. Tre ricordini? Oh, adesso basta, eh, però. Ok. Oh. Se no mi fa arrabbiare, eh. Mi raccomando, tira la corda. Ok, allora tiro la corda. Bravo, si vede che hai capito. Qual è la corda? Oh, quella cosa lunga lì. Quella non è la corda. Oh, adesso basta, eh, però. Se no mi sta a far arrabbiare, eh. Veramente conto fino a dieci e poi me ne vado, se no, eh. Ok. Ok? Conto? Vado? Sì. Vai? Sei pronto? Sì. Uno. Uno. Due. Due. Tre. No, oh, devo contare io. Tre. Quattro. Cinque. Ma, ma, ma che fai? Ecco la corda. Ma, ma, ma quale, adesso basta, eh. Allora, signori, eh, qui direttamente a Capena, il mio grandissimo amico. Eh, è arrivato? No, ti credo. Sì. Johnny, grazie, grazie. Applauso. Me raccomando. Johnny, eh, ma non devi dire grazie. Oh, no? No. Quando ti presenti, innanzitutto, davanti a un pubblico, non devi dire grazie, ma devi dire, oh, Johnny, ma mi stai sentito o no? Sì, sì. Eh. Allora, quando ti presenti, gli stavo dicendo, qui davanti a questa fantastica piazza, non devi dire grazie, ma devi dire, che gnocca, ma che dici? Eh, c'è una ragazza carina. Eh, ho capito che c'è una ragazza carina, però queste cose non si dicono davanti a un pubblico. No? Eh, no. Allora, mi senti un attimo? Sì. Oh. Allora, quando ti presenti, devi dire grazie. Ma che grazie. Ascoltami un attimo, guardami a me. Quando ti presenti, devi dire buonasera. Anche signori e signore? Sì, anche signori e signore. Ok. Dai però adesso, eh, se no, ne arrabbio sul serio questa volta. Ok. Vai. Sì. Signore... no. Come no? Sì. Signore e signorine, buonasera. Buonasera. Johnny. Che c'è? E i signori? No, non mi interessano. Ma come non ti interessano? Non mi fa fare certe figure, eh? Oh no? Eh no, perché se no, non ti porto più in giro con me a fare i spettacoli. Oh sì? Eh sì. E allora chi se ne frega? Ma come chi se ne frega, oh? Eh sì? Senti, ma lo sai cosa ti dico adesso? Lo sai cosa ti dico? Lo sai cosa ti dico? Eh? Eh? Lo sai cosa ti dico? Eh? Io vado via adesso, eh? E tu? Eh? Non parli più. Ah 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 ah. Che ti ridi? E io lo sai cosa ti dico? Eh? Cosa mi dici? Io vado via, eh? Eh? Tu vai via, eh? Beh? E tu non non ci più. Anche questo è vero, eh? Ma di qualcos'altro al nostro pubblico, dai? Crescino? Che ne so, come lo trovi il nostro pubblico? In piedi? No, in piedi. Caloroso, accogliente. Freddo! Freddo? E perché? Sì, voglio un applauso. Vabbè, va. Guarda che sei proprio una peste. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Hai finito? Sì. Oh, bravo. Ascoltami, senti una cosa. Sì. Ma chi c'è stato sempre con te nei momenti difficili? Tanto che mi prendi sempre in giro. Chi c'è stato? Chi? Eh, chi c'è stato nei momenti del bisogno con te? Sì, c'eri tu. Eh, allora perché mi prendi in giro qui a Capena, davanti a tutti, eh? Chi c'è stato quando avevi bisogno di un amico con cui parlare? Chi c'era con te? C'eri tu. E nei momenti del bisogno, quando avevi problemi economici, chi c'era con te? C'eri tu. Eh, e allora? E allora sei tu che porti sfiga. Come porto sfiga, oh! Eh sì? Ma è possibile? Perché mi prendi un ragazzino per un pubo? Su, di noi, ci sono essi sconnessi, sono noi. Oh. Eh. Ma è possibile che con te si può fare un discorso serio? Eh certo, se ti ho guardato con te. Hai visto che non vuoi parlare? No, no, che cosa? Regia, musica, cantiamo. Eh sì? Non ti scordar mai di me. E anche di me. Di Giussi Ferreri. Che gnocca! Non cantà stonato, eh. Mi raccomando. No, no. Bravo. Mi raccomando, eh. Sì. Vai. Se fossi qui con me questa sera Sarei che dice e tu lo sai Bravo, vai, vai. Bravissimo. Sarei che ne ho anche la luna Bravissimo, vai. Ora ti ho chitto la che è nai Vai. Sì. Ora io anche un nino della nostalgia Bravo. Sì. Che da lontano torna Che da lontano torna è solo una scia bei si che tenko caicolci in genera e non la sobrante verà non ti scordar nai di nel di ogni e nia a quel buonanno come un altro un'altra non ti scordar nai di nel di ogni e nia a quel buonanno e non lo so o niente a quel buonanno e non ti scordarino grazie grazie Cabena grazie a tutti per essere stati qui grazie grazie mille grazie grazie mille grazie dai che ora ti porto a casa si dai svegliati dai su vieni si andiamo e ora ci stanno delle gallegnocche dai andiamo su ciao ciao brazzi si grazie a tutti 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 Grazie.